Scopri il trattamento Riducella e perdi subito molti centimetri di circonferenza corporea totale, già alla prima applicazione. La perdita media è di 50-60 centimetri su tutto il corpo. Riduce immediatamente la circonferenza corporea. Rimodella il corpo dove c'è più bisogno. Rassoda seno e glutei. Riduce il doppio mento. Realizzato con ingredienti puri e naturali, ideato più di 50 anni fa dal medico tedesco Gustav Blatt, il metodo viene continuamente migliorato e arricchito attraverso la sperimentazione di ricercatori e specialisti che lo hanno perfezionato, brevettato e reso unico per efficacia e prestazioni. Le sue funzioni principali, grazie alla formulazione esclusiva del composto, applicato tramite bende sul corpo del cliente, sono la disintossicazione dell'organismo attraverso l'espulsione delle tossine, l'eliminazione dell'accumulo di metalli pesanti, la riattivazione della circolazione venosa e linfatica, la stimolazione del metabolismo. Sono sufficienti poche sedute, una ogni 10 anni di età. Ad esempio, 30 anni, 3 sedute, 40 anni, 4 sedute e così via. Gli effetti possono durare dai 6 mesi a un anno. Naturalmente, il seguire un'alimentazione sana e il praticare un'equilibrata attività fisica è il modo migliore per una gestione corretta del proprio corpo. Ed è per questo che invitiamo a sfruttare questo momento così positivo per programmare i prossimi mesi all'insegna di uno stile di vita più salutare. Prova Riducella in garanzia. Il tuo primo trattamento Riducella è coperto dalla garanzia soddisfatta o rimborsata. Se al termine della prima seduta non perdi almeno 20 cm di circonferenza corporea, il trattamento sarà gratuito. Il trattamento viene eseguito esclusivamente presso i Riducella Selected Center. Per informazioni, 338 97 37 023. Riducella. Metodo. Natura. Risultato.